Ben trovati per una nuova puntata di Talk Sicilia, un appuntamento che questa volta vuole accendere i rifrettori su un tema in agenda non solo politica, ma soprattutto in quella dei cittadini, con cui hanno a che fare quotidianamente, soprattutto in questi ultimi anni, con una pandemia che ancora continua a mordere, come si suol dire, e non de mordere. Il tema è la sanità, lo leggete dal titolo che abbiamo dato alla trasmissione, in Sicilia, perché siamo in Sicilia, e l'abbiamo titolato La grande incompiuta, una grande opera che da decenni cerca sempre di essere modellata, a secondo i vari governi che intervengono, ma che sta di fatto che a oggi concretamente il cittadino trova difficoltà come ieri e forse anche di più. Su questo dialogheremo con il Presidente dell'Ordine dei Medici di Palermo, che tra l'altro è componente del Direttivo Nazionale, quindi questo è un segnale che vi do, soprattutto per farvi capire che ha la visione anche della sanità nazionale, e di conseguenza può darci qualche indicazione in più per cercare meglio di capire la nostra questione. Innanzitutto, Presidente Amato, la ringraziamo di aver raccolto il nostro invito, ed entriamo subito nel vivo, partendo da una questione che già da diversi mesi, per non dire da più di un anno, c'è questa, sta diventando quasi anche drammatica, carenza del medico tra le corsie. Ma che è successo? È stata la pandemia a farci accorgere del problema o il problema c'era? La risposta deve essere strutturata. È indubbio che il Covid ha messo in evidenza situazioni di insufficienti, che già venivano denunziate, in particolar modo dagli ordini dei Medici e della Federazione, in campo nazionale, poi declinando in situazioni regionali, è ancora più evidente, perché devo ricordare che la nostra regione per tanti anni è stata in cosiddetti piani di rientro dal punto di vista economico, quindi assunzioni, situazioni varie, questo ha pagato. Il Covid ha smascherato non solo in Sicilia e in Italia, ma nel mondo. Ci sono esempi in Inghilterra dove si sono scoperti di nuovo nudi, nonostante ciò che era stato predicato da un illustre scienziato, Michael Marmot, il quale aveva costituito Van Manchester, perché parlo di Manchester? Perché ormai la città di Palermo è legata in particolar modo a Manchester, un'isola felice, la Manchester City per quanto riguarda la sanità. Dove era tutto perfetto, è arrivato il Covid e ci si è scoperti, invece sono scoperti i nudi, perché il Covid è stato un uragano che ha colpito tutti. Il problema è annoso, fino adesso la programmazione dell'accesso alle scuole di medicina e alle scuole di specializzazione è stata governata da due fattori. Prima dalle esigenze delle stesse università che formulavano la loro offerta in base alla possibilità di insegnamento. mi pare anche una cosa corretta, perché significa che bisogna avere aule, bisogna avere ambulatori, bisogna avere strutture. Quindi questo è un problema proprio annoso strutturale. La seconda componente era quella delle scuole di specializzazione, che come sappiamo lo studente, l'allievo delle scuole di specializzazione, viene definito assistente in formazione, e per tale motivo deve avere anche una remunerazione, deve essere pagato in soldi. E non avendo fondi sufficienti su questo è la base. Quindi da decenni, questo che adesso è stato e che è emerso, è un problema che conta decenni, e quindi non è che improvvisamente ci siamo accorti di questo. Se veniva detto che i medici sono insufficienti, addirittura le casse previdenziali, loro studiano nell'arco del tempo, così già annunziavano che c'era una gobba pensionistica importante, per cui parecchi sanitari, io mi riferisco al mondo medico, ma anche a delle altre professioni, infermieri sarebbero andati in pensione, ma il numero di persone formate per poter occupare questi posti non era sufficiente. Quindi oggi si è svelato questo. Il problema esiste, perché la richiesta di salute è continua, devo dire giornaliera, è continua, e manca il personale. E quindi il Covid ha svelato, o perlomeno ha evidenziato questo. Questo che cosa comporta? che bisogna attuare un pronto intervento, in qualche modo, cercando di capire anche le motivazioni profonde che portano a questo. Quindi da un lato bisognerà pensare alla formazione dei nuovi medici, il numero... Allora, scusi se la interrompo, chiarissimo. Allora, ha sodato che è stata una, diciamo, cecità della politica sotto certi aspetti, perché se così è, così è, che non ha saputo amministrare, come si suol dire, il progetto sanità. Oggi, che più di ieri, siamo alla vigilia di un nuovo ricambio di governo, di amministrazione, sia regionale che nazionale, visto da un'ottica di un professionista, quale potrebbe essere, senza entrare ovviamente nel tecnicismo, cioè per arrivare al cittadino, cioè perché poi voi siete dei professionisti, ma siete anche la voce dei cittadini, nel senso che conoscete le esigenze del cittadino. E molto spesso la politica, questo io per decenni, modestamente di esperienza, si avvale di consulenti che non riesco a capire poi cosa vanno a dire al politico, se poi sotto certi aspetti i problemi stanno sempre dietro l'angolo. Detto ciò, chiusa la polemica, io le chiedo, possiamo dare, se possiamo dare, qualche contributo ed eventualmente a un futuro governante, per capire da dove partire? Perché si parla sempre, e concludo, di taglia alla sanità, di mala sanità, però voglio dire, possiamo noi per decenni usare sempre questa terminologia, e non abbiamo la capacità di cominciare a disegnare un nuovo progetto, cioè questa incompiuta, voglio dire, possiamo avviarla per renderla un'opera definitiva? Grazie. Definirlo è sempre difficile, però attuare un percorso sì, parto immediatamente da fatti concreti, i cittadini, le persone che si rivolgono a un'area di emergenza, al pronto soccorso, al 118, devono sapere che il personale che lavora nel 118, percepisce la stessa retribuzione economica di qualsiasi altro medico e lavora in situazioni più riparate, però più riparate, con dei filtri maggiori. ebbene, queste persone che poi sono le persone che ci salvano la vita, non sono gratificate, ma non solo da un punto di vista economico, non sono gratificate attualmente anche da un punto di vista di prospettiva, di carriera, entrano in un modo, entrano con il grado di dirigente, entrano secondo le convenzioni e talerrestano per 40 anni. E allora non è più appetibile, per quanto si facciano dei concorsi, nessuno vuole entrare in un posto dove sa che entri in un modo e continui in un modo, oltretutto con la carenza del personale sotto uno stress lavorativo notevole. Io devo ricordare da recente che alcuni colleghi hanno perso la vita proprio da stress e lavorare in condizioni di stress senza avere diciamo quelle prospettive sia economiche ma anche di carriera questo fa star male. Ci sono colleghi che sono costretti proprio per mancanza di personale a superare le numerose ore di lavoro a cui già sono sottoposte e condurre una vita e portare avanti quello del loro compito principale di salvare la vita alle persone. Scusi se la interrompo, ci sono anche figli di un mio collega, faccio un esempio concreto personale e me ne scuso, che un paio di mesi fa è dovuto andare in Germania a fare il medico e che nel giro di un paio di mesi io non voglio essere io sono italiano e sono siciliano però è possibile che in giro di un paio di mesi ha trovato lavoro e tenuto conto che la vita lì non c'è dubbio è più cara però prende quasi tre volte quanto viene retribuito un medico. il dato economico è importante è inutile tacere posso fare discorso di etica ma non è solo questo che il lavoro in questo momento c'è ma non è attrattivo uno va dove ha migliori condizioni di vita di salute e anche di riconoscimento della propria qualifica io devo parlare del medico ma non devo dimenticare anche le altre professioni partendo dagli infermieri delle varie professioni infermieristi delle varie professioni sanitarie cioè non è attrattivo e in più considerando la situazione che esplosa in tutta Italia ma maggiormente in meridione c'è anche il rischio non solo di guadagnare poco così ma anche di sbagliare quindi la possibilità di errore perché un medico che lavora più ore del normale è stanco è alla vita è alla salute in mano ma in più anche di prendere botte perché la violenza è quotidiana costante il cittadino che si incavola non lo deve fare perché attenta a un bene comunitario della salute che è comune a tutti non lo deve fare però teniamo punto che a volte il cittadino è esasperato da condizioni logistiche non sempre felici con le sale d'aspetto così ma anche dalle mancate risposte del personale tutto sappiamo bene e non sto dicendo una cosa nascosta molte volte per avere informazioni su un parente che è ricoverato o di un nemico così bisogna ricoverare talvolta è il metronotte che comunica perché il personale è minimo è insufficiente sotto stress lavorativo e dare la giusta e opportuna comunicazione di una diagnosi che talvolta può essere in fausta quindi scatena maggiormente cose bisogna di locali donne ma anche di tempo opportuno per ragionare quindi ripirogando bisogna riqualificare e dare dignità professionale ed economica al professionista esso sia medico inferniere e i vari parasanitari la sicurezza che quindi che ne deriva anche dal punto di vista logistico sto cercando di sintetizzare per fare i punti che mi sa che non si sono mai toccati sotto certi aspetti o sbaglio dottore Totini o meglio se si sono toccati noi in maniera sistemica cioè si è fatto quel look in quella struttura ma oggi ci ritroviamo sempre per parafrasare lei stesso il metronote che dà servizio voglio dire e il medico che dopo 20 ore è stressato abbi pazienza siamo io non mi sento in questo momento di criticare perché assolutamente i passaggi li conosciamo tutti è stato quel covid che ha smascherato qualcosa che c'era ma che in qualche modo col modo di arrangiarsi tanto più della regione siciliana noi operiamo questo termine di appunto arrangiarsi le cose superate adesso non c'è più la possibilità di arrangiarsi e quindi scoppia maggiormente quindi è necessario investire in questo momento in strutture ed è necessario in servizio altrettanto ma sul personale umano e senza l'uomo lo dice il papa lo dicono in qualsiasi religione non si può andare avanti e dentro le strutture servirà a poterlo occupare con professionisti preparati che possono dare le opportune risposte ma altrettanto non solo occupare le strutture ma anche chi deve guidare queste strutture si parla sempre più di telemedicina si parla sempre più di sistemi robotici ma ricordiamoci dietro ci sta sempre deve essere un uomo che non può essere sovraccaricato da burocrazia è un dato evidente e su questo lo dico io vedo talvolta i miei colleghi al pronto soccorso che lavorano da un lato devono guardare la persona che devono assidere dall'altro lato devono guardare il pc dove inserire i dati ebbene in strutture di eccellenza questo è un po' stemperato perché accanto al medico c'è stato il personale che svolge quelle funzioni burocratiche con il medico a cui il medico non è delegato a fare è passato nelle ultime riunioni delle camere si è nato un termine bellissimo che è stato quello l'ascolto come tempo di cura ebbene il medico bravo preparato ci sono pure dei colleghi mi dispiace talvolta hanno altro tipo di pressioni e sono più distratti ma il medico ha bisogno di ascoltare la persona di dare tempo non può stare dietro un computer a fare compilazione e non guardare negli occhi che sta vicino quindi il tempo d'ascolto è tempo di cura dobbiamo dare la degnità al medico perché il medico si possa occupare pienamente della salute collaborato da altro personale che in questo momento è insufficiente che possa essere d'aiuto nell'assistenza materiale mi riferisco alla figura di infermiere ma anche al personale che possa essere in grado di mettersi dietro il pc e seguire quelle che sono le indicazioni per lasciare traccia uno dei problemi più grandi che poi hanno portato talvolta a situazioni anche giudiziarie il medico è perché non c'è tempo di tracciare la propria attività e questo è un dato pesante il medico quando compie un'azione la deve tracciare la può tracciare mentre ha il bisturo in mano no ma serve che qualcuno ci sia perché si lavora bene quante vite vengono salvate qualcuno talvolta muore ci può essere anche l'errore non si l'errore è umano l'errore è umano ma guardate tanta gente viene salvata e se oggi persone che stanno fuori in zona e vengono a ricoverarsi da noi perché ci sono queste persone che preferiscono non partire perché sono casi importanti perché alla fine c'è anche una buona sanità che cammina sulle gambe degli operatori sanitari però tutti questi punti presidente abbiamo un penso sia nazionale che regionale un momento storico che il momento storico è che per affrontarli occorre danaro e c'è questo famoso che si decanta PNRR questo piano nazionale di resilienza che a quanto pare almeno per quanto riguarda la Sicilia e la sanità in particolare c'è qualche cosa che si dovrebbe rivedere perché c'è l'allarme che sento da più parti che bisogna ridisegnare questo PNRR qual è il motivo di fondo? ma il PNRR è qualcosa è un'opportunità parliamo di questo è un'opportunità che deve essere sfruttata sfruttata al meglio ma altrettanto nel PNRR non è compreso quello che ho già detto prima il valore dell'umano cioè ci sono investimenti e fondi per quanto riguarda strutture e attrezzature e allora su questo dico bisogna essere bisogna essere attenti io devo far presente il PNRR non si rivolge solo al servizio sanitario ma ad altre strutture e allora per esempio io dico una cosa noi abbiamo una situazione orografica ma anche di tipo di comunicazione cioè le strade devono portare al più vicino ospedale o al più vicino pronto posto di primo intervento devono essere strade praticabili oppure ci si deve arrivare in tempi in tempi rapidi non si può essere così consigliamo la nostra realtà quella siciliana realtà orografica dove fare passare da un paese all'altro o da un paese delle montagne arrivare al più vicino ospedale passa parecchio tempo ebbene questo andrebbe sfruttato il problema è sempre quello ci sono i tetti di spesa per quanto riguarda le assunzioni del personale bene questi tetti di spesa devono essere rivisti nel modo migliore quindi serve uno sforzo anche da parte del governo centrale non è un problema solo regionale allora una regione sappia parlare col governo centrale affinché si possa portare questo e poi la gratificazione della persona che lavora però mi scusi a quanto pare è allarmante quello che dice se ho ben capito nel senso che cioè tenuto conto che nel PNR non si emette anche in primo piano la risorsa umana e noi che parliamo di risorse umane da quando abbiamo iniziato la tradizione quindi mi viene da sé chiederle ma si rischia per l'ennesima volta di avere un'opportunità e non sfruttarla al massimo domanda penso come si suol dire la paliziana allora io non sono un decisore politico no però lei è un tecnico sono un tecnico qui serve uno sforzo uno sforzo uno sforzo tutti dobbiamo saperci aiutare ognuno con le proprie funzioni l'istituzione ordinistica può segnalare segnala determinate carenze determinate problematiche così come anche gli altri corpi i corpi dei sindacati evidenziano questo la politica deve sapere ascoltare come ho detto il medico deve sapere ascoltare e fare come tempo di cura la politica deve sapere ascoltare e capire le esigenze prima delle persone quando io parlo delle persone intendo dire i cittadini ma intendo dire anche gli operatori che hanno la cura delle persone e poi vedere un po' di poter eseguire degli indirizzi evitando possibilmente quei tiri la tirata della giacca dopo un tempo di qualche interesse che non si confà l'interesse generale che deve essere il primo punto di qualsiasi attività politica è determinante quindi dobbiamo cercare di non perdere e non sfruttare al massimo questa opportunità è determinante io cito sempre un pensiero di Platone Platone è un grande maestro di vita nella sua repubblica dice a capo mettiamo il poeta perché è un'idea meravigliosa poi filosofi e poi accanto il capo deve essere un poeta e beh ci sta in alcune nazioni esiste si è stato pure un poeta ma poi i migliori ma i migliori intendendo tutte le persone che possono portare organicamente in un sistema comune quelle che sono le esigenze e anche con le soluzioni bisogna sapere ascoltare e qui mi auguro che il governo prossimo futuro qualunque sia sappia ascoltare considerando quello e io dico i corpi intermedi che hanno importanza hanno una funzione i corpi intermedi io rivendico questo ruolo sia come presidente dell'ordine sia come componente della consulta delle professioni noi abbiamo sentiamo che cosa dicono le persone e le possiamo trasmettere operandoli in maniera diversa quando dico persone ritengo cittadini e operatori di tutte le persone quindi mi auguro che la politica la politica di sempre non voglio dire di ora di domani sappia accogliere questa opportunità esistono i corpi intermedi che sono istituzioni non sono associazioni di amici sono istituzioni e come istituzioni devono essere ascoltate e prese in giusta considerazione un'ultima domanda in meno di un minuto il medico di famiglia il presidente io forse perché ho una certetà a proposito di ascolto mi ricordo che arrivava a casa ti ascoltava non pensa che sia anche questa figura dopo aver parlato di corsie e strutture è la figura più importante darvi valutare darvi vedere perché oggi si è arrivati quasi senza offendere la categoria a fare dicette via email voglio dire cosa si può fare per dare una sterzata per concludere brevemente il medico di famiglia è una risorsa che tutte le nazioni così come nel nostro sistema universale e solidaristico in Italia è importantissima può dare quel giusto filtro affinché le persone non siano costrette ad andare in ospedale per patologie che non hanno necessità di ricovero ospedaliero o di intervento ospedaliero bene io ringrazio ancora una volta veramente il presidente totiamato sono certo che riprenderemo in una futura puntata questo tema perché cercheremo se ci riusciamo a contribuire alla non dico alla costruzione o alla realizzazione definitiva di questa incompiuta ma ad apportare quella goccia dopo l'altra per cercare di dare messaggi sia al cittadino e anche a chi un domani ci governa che sicuramente in una società come dice il presidente le figure intermedie quindi anche in questi casi i media devono essere ascoltati per creare una società migliore ancora grazie presidente grazie a voi telespettatori alla prossima grazie grazie a tutti